Bobo Rondelli sarà il protagonista della settima edizione di Bomba Libera Tutti, la manifestazione dedicata alla festa della liberazione organizzata da Assemblea Libertà e Partecipazioni in collaborazione con Left Lab, Ampi e Comune di Prato. L'appuntamento è per il 25 aprile alle 15.30 in piazza dell'Università. Il famoso cantautore salirà sul palco al termine di un ricco pomeriggio di musica. Quest'anno abbiamo concentrato tutto in un'unica giornata, quindi tutto nella giornata del 25 aprile. Dalle 15.30 fino a mezzanotte ci saranno dei concerti in piazza e l'headliner, quindi il gruppo principale, sarà Bobo Rondelli che verrà aperto da musica e da ripostiglio. Nel pomeriggio invece si esibiranno delle bande trovate dal Blackout Contest. Oltre alla musica dal vivo ci sarà anche uno spazio incontri in cui si parlerà di resistenza, di memoria ma anche di attualità. Si comincia alle 16.00. Diciamo durante l'ora di cena e i cambi palco si susseguiranno tutta una serie di dibattiti, iniziative, presentazioni di libri, eccetera.